Maria, donna del futuro, aprici il cammino. Queste sono state le parole che ogni sera hanno accompagnato la novena all'Immacolata. Nove giorni dedicati alla Vergine, accompagnati dai padri agostiniani in un cammino di preghiera, conclusosi con la processione per le vie cittadine di domenica 8 dicembre. Alla presenza dell'arcivescovo Cardinal Severino Poletto, dopo la messa solenne, la processione in onore della Vergine Maria ha attraversato le vie cittadine e quest'anno ha voluto seguire un percorso, come ha detto Monsignor Avataneo, verso coloro che non devono in nessun modo sentirsi esclusi dalla nostra storia di fede e di comunità, verso i malati del nostro ospedale, verso le periferie della nostra città, in un percorso che, ha aggiunto Don Giancarlo, seppur solo in modo simbolico, vuole abbracciare e raggiungere tutti. Di fronte all'ospedale San Lorenzo, ad attendere la statua della Vergine, si sono radunati alcuni rappresentanti del Comitato di Difesa del San Lorenzo, che sicuramente a Maria hanno voluto affidare la loro richiesta di protezione di questa importante struttura cittadina che sta vivendo momenti difficili. La statua della Vergine ha poi continuato il suo cammino fino ad arrivare in Piazza Sant'Agostino, dove ha sostato per alcuni minuti in memoria di quel voto che nel 1522 dodici padri di famiglia, gli ultimi rimasti risparmiati dalla peste che imperversava, fecero all'Immacolata. La storia narra infatti che i dodici, radunatisi sulla centrale Piazza Sant'Agostino, fecero voto alla Vergine dell'Immacolata Concezione di erigere una cappella in suo nome e di digiunare nella vigilia della sua festa. Una costante tradizione narra che in quella circostanza, sulla chiesa di Sant'Agostino apparve la Vergine e appena emesso il voto, il carretto per il trasporto dei morti si ruppe, come ad indicare la cessazione del morbo e la fine delle sofferenze per la popolazione. Quest'anno sono tornati a prender parte alla processione i dodici paggetti, che già in passato rappresentavano simbolicamente proprio i dodici padri di famiglia carmagnolesi. Prima di rientrare nella chiesa, la statua dell'Immacolata ha sostato sul sagrato, dove in particolar modo si sono voluti affidare i bambini alla Vergine. Dopodiché gli abili portatori dell'Immacolata hanno fatto rientrare la statua nella chiesa per la solenne benedizione conclusiva.